E' per suo figlio? Più o meno. Spero che gli piaccia. Sono due anni che non lo vedo. Mayday, Mayday, avaria il motore! Dov'è? Sono sicuro che non è morta. Bisogna sorvolare la zona. Vuoi chiedere a quello là? No, no, quello è un verme. Sì, ma è un aereo. Chi è l'altro? Questo cos'è? E' un cane. Quello non è un cane, è un orso. Non morde mica. Lega il tuo grizzly. Mia nipote manca da due giorni, lei è il solo che ci può aiutare. Hai visto laggiù? Fumo arancione. Sono sicuro che è Angelina. Andavi troppo veloce. Sto sognando. Tieni! Tuo padre? Non ho un padre. Camminiamo fino alla fumata arancione. E a partire da adesso sono io che comando. È chiaro? Io mi chiamo Gabriele. Dove sono i tuoi? Insieme ai pompieri. Ci aiuteranno loro a ritrovare Angelina. Nessuno può arrivare là, è troppo pericoloso. Angelina non tornerà. Sapevo che non mi dovevo fidare di te. Sei troppo piccolo per capire. Non sono piccolo. Non ho mai avuto una femmina come amico. E chi ti ha detto che sono tua amica? Belle! Hanno paura del fuoco, guarda. Siamo in trabola. Da lassù vedrai meglio. È di là! E a partire da adesso sono io che comando, chiaro? Ma voi lo sapevate che il costo delle Aston Martin andate distrutte nel nuovo capitolo di James Bond, Spectre, ammonterebbe a circa 39 milioni di dollari? Che pare il compenso di Daniel Craig? Wow. Cliccate qui accanto per altri video e... No, scusate. Scusate, non ce la faccio. 39 milioni. 39 milioni di dollari. Ok. Eh, cliccate qui accanto. Intanto io... Sto male. 39 milioni. Grazie. Ciao. Ciao, ciao.